Salvini presto lascerà Di Maio e tornerà con noi, così Silvio Berlusconi in un'intervista esclusiva per il Molise a Teleregione, meno tasse e sblocco di tutti i cantieri per rilanciare il paese e la ricetta del Cavaliere. L'intervento integrale lunedì sera a fuoco incrociato. Bagno di folla a Campobasso per l'arrivo di Matteo Salvini, il ministro Bacchetta Di Maio e dice io sto con gli imprenditori. Al Centrum Palace centinaia di selfie, mentre in piazza monta la protesta. C'è attesa a Campobasso per la sentenza d'appello a carico di Domarino Genova, già condannato in primo grado a sei anni per atti sessuali con una minore. Quale futuro per l'ospedale di Isernia dopo la manifestazione di ieri al Veneziale, approfondimento domani sera alle 21 a conto alla rovescia. Ennesimo episodio di vandalismo ai danni di una scuola di Isernia nella notte. Grossi sassi lanciati contro le porte in vetro del Fermi Mattei. Ciclismo, la sesta tappa del Giro d'Italia attraversa la regione da Venafro a Gamba Tesa passando per Campobasso. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Teleregione. Lo avete ascoltato dai titoli. La campagna elettorale per le europee e le amministrative è nel pieno. Ieri sera il comizio al chiuso di Salvini e la manifestazione in piazza contro il ministro dell'Interno in esclusiva a Teleregione. Proprio di Salvini parla anche Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è convinto che il capo della Lega presto lascerà Di Maio e tornerà col centrodestra. Convinto anche quindi che il governo giallo-verde cadrà a breve. Per questo ha già pronto il programma. Meno tasse e sblocco di tutti i cantieri per rilanciare il paese. Ma vediamo, ascoltiamo il leader di Forza Italia in questa intervista esclusiva rilasciata a Teleregione al direttore Pierluigi Boraggine. Io penso che Salvini ormai sia convinto che restare ancora in questo governo possa fare molto male alla Lega perché questo governo fa cose opposte a quello che la Lega si era impegnata a fare nei confronti dei suoi elettori e che ove non ci fosse questo divorzio lui e la Lega sarebbero ritenuti corresponsabili del male che questo governo fa all'Italia e agli italiani. Dunque per Silvio Berlusconi è solo una questione di tempo. Il governo giallo-verde presto cadrà e Matteo Salvini tornerà con gli alleati naturali. Nell'intervista rilasciata in esclusiva per il Molise a Teleregione a Palazzo Grazioli, residenza romana del re delle televisioni, il Cavaliere appare pimpante convinto che l'effetto Berlusconi ci sarà anche questa volta. Qualche punto in più di Salvini, qualcuno in meno di Di Maio, l'obiettivo del leader di Forza Italia per le europee del 26 maggio. Berlusconi ricorda di essere stato buttato fuori dal Senato da una sentenza infondata da cui è stato riabilitato, calunniato e accusato di ogni male, ma è ancora lì pronto a rimettersi in gioco perché è convinto che in Europa sia l'unico capace di creare uno scenario nuovo al PPE. Con me ricorda l'Italia era protagonista considerata in Europa e nel mondo. È così convinto che il governo giallo-verde sia il capolinea che ha già preparato, insieme a Lega e Fratelli d'Italia, il programma del nuovo esecutivo. Parola chiave investimenti indispensabili per rilanciare ad esempio l'edilizia da sempre settore trainante del paese, ma soffocato da un codice degli appalti che ha generato solo disfunzioni. Senta, lei parlava di investimenti. Gli Stati Uniti con Obama prima e Trump poi ha messo in campo un grosso piano di investimenti pubblici sulle infrastrutture per rilanciare il paese e ci è riuscito. In Italia l'edilizia è davvero in crisi, falliscono aziende piccole e grandi. Sblocca cantieri, il codice degli appalti e lì lo contestano fortemente. Lei cosa propone? Propone lo sblocco totale dei cantieri pubblici. In Italia ci sono numerose opere, quasi 100 opere, che ciascuna riguarda un investimento di 100 milioni, fanno in totale 24 miliardi e 600 milioni, sono tutte ferme dalla TAV in poi. Ci sono anche tante altre piccole opere. Le opere pubbliche cosa producono? Primo, lavoro sicuro. I costruttori hanno calcolato che si va addirittura oltre ai 600 mila nuovi posti di lavoro. Secondo, danno le condizioni alle imprese di recuperare spazi nella logistica, mentre oggi la logistica a noi, per la mancanza di infrastrutture, costa rispetto a Francia, Spagna e Germania, che hanno il doppio delle nostre infrastrutture, del 15 al 18% in più, il che rende ancora più difficile la nostra competizione con le aziende che fanno gli stessi prodotti. Ma vede, questo fatto, le grandi infrastrutture, gli investimenti, sono contrari alla filosofia di base dei 5 Stelle, i quali non vogliono lo sviluppo dell'economia, pensano a quella che chiamano la decrescita. Tutti gli indici economici certificano una nazione al collasso. Berlusconi ha la formula magica per invertire il trend. Si chiama equazione dello sviluppo e del benessere e dice meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese, meno tasse sul lavoro. Producono più consumi delle famiglie, più produzione e più investimenti delle imprese, più posti di lavoro e producono anche maggiori entrate nelle casse dello Stato che può aiutare meglio di più i cittadini che sono rimasti indietro. Meno tasse per tutti, altro mantra del Cavaliere insieme all'aumento delle pensioni e al sostegno alle mamme. Non è un'utopia per lei, Presidente, la flat tax? Assolutamente, ci sono moltissimi paesi che l'hanno applicata. Le dico, la Georgia per esempio ha il 20% di flat tax, la Romania, la Bulgaria hanno il 16%, la Russia, l'Ucraina il 13%, l'Albania addirittura il 10% e tutti questi paesi, altri ancora, hanno aumentato le entrate dello Stato. Quindi quando chiedono dove si trovano i soldi necessari per la flat tax, perché diminuisce la percentuale? No, non diminuisce, aumenta, perché sparisce l'evasione e l'illusione. L'intervista integrale a Silvio Berlusconi andrà in onda lunedì sera nel programma Fuoco Incrociato a partire dalle 21. Salvini dunque pienone ieri sera a Campobasso per l'arrivo del ministro dell'interno, leader della Lega, ha venuto per un comizio a tirare sostanzialmente la volata alla candidata sindaco proprio della Lega al comune di Campobasso. Ma ha parlato anche di edilizia, dell'estrema urgenza di ridare l'infa al settore su sblocca cantieri e codice degli appalti. In particolare ha detto sto con gli imprenditori, dobbiamo ascoltare le loro istanze e spero che altri anche mantengano fede alla parola data riferendosi agli alleati di governo dei 5 Stelle. Cristina Niro. Puntuale sulla tabella di marcia alle 21.30 il ministro Matteo Salvini varca la soglia del Centrum Palace di Campobasso dove ad accoglierlo ci sono almeno 1500 persone. Non si sottrae alle strette di mano, ai saluti e a qualche scambio di battute con i simpatizzanti che lo acclamano. Poi l'incontro con i media prima di abbracciare la folla che lo aspetta per la sua spinta decisiva ai candidati di Campobasso e Termoli. Parla anzitutto di edilizia che definisce il motore dell'economia italiana e non tradisce al riguardo dubbi né incertezze riferendo con fermezza che lui, Matteo Salvini, sta dalla parte degli imprenditori. Codice degli asfalti, sblocca cantieri, gli imprenditori sono preoccupati, minacciano di Baccayla Rossa. Noi siamo con gli imprenditori perché elevare a un milione la soglia per procedure veloci, agevolate, per rifare scuole, palestre, impianti sportivi, strade, quelle piccole opere che poi occupano le imprese artigiane del territorio e non le grandi aziende che arrivano da fuori è fondamentale. Speriamo anche questo che nessuno si metta di traverso perché c'era un accordo con i 5 stelle per arrivare alla soglia del milione che mi sembra ragionevole per sbloccare questi cantieri. Spero che nessuno stia cambiando idea. Parte dunque dall'edilizia e dalla necessità urgente di mettere in campo soluzioni che riaccendano il settore per esprimere poi soddisfazione anche sull'arrivo in Molise dei 220 milioni destinati al contratto istituzionale di sviluppo. Sono orgoglioso di far parte di un governo che abbia dato questa disponibilità. L'importante è che vengano spesi bene perché spesso e volentieri, guardiamo alle infrastrutture o al tessuto commerciale, al sostegno all'agricoltura in alcune regioni del centro e del sud, in passato sono arrivati soldi che a livello locale sono stati spesi poco e male. Per la prima volta nella storia la Lega Campobasso ha una candidata sindaco. Aspetto che lo inorgoglisce perché ormai il partito del Carroccio ha la strada spianata un po' ovunque. Poi è fondamentale avere dei sindaci perché poi sono i sindaci che al 90% rispondono alle loro città. Lì qua c'è una sinistra che ha fallito perché mi sembra evidente e quindi sono orgoglioso che ci sia un centrodestra compatto e ci sia una donna, una professionista, una lavoratrice della Lega che si candida a guidare questa splendida città che negli ultimi anni ha rallentato e invece è il capoluogo, merita tanto, merita più cura, più attenzione quindi sono contento che per la prima volta nella storia i cittadini di Campobasso possano scegliere la Lega e sono convinto che andrà bene. Un sindaco non può fare filosofia, un sindaco si occupa di strade, di scuole, di tasse comunali, di rifiuti, di parcheggi, di viabilità e quindi ho visto il programma dei candidati della Lega per Campobasso, un programma molto concreto senza grandi menate e quindi c'è bisogno di concretezza. Infine altro decreto che a lui sta particolarmente a cuore è quello per la sicurezza. Ci sono norme per mettere in galera i camorristi, ci sono norme per intercettare gli scafisti, ci sono norme che prevedono il sequestro delle imbarcazioni che in mare raccolgono i migrati non rispettano le indicazioni delle capitanerie e le convenzioni internazionali e soprattutto ci sono pene più forti per chi aggredisce poliziotti o carabinieri. Nei primi mesi di quest'anno ci sono stati più di 630 carabinieri aggrediti, curati, ricoverati e medicati. Non è possibile che qualcuno ritenga che si possa aggredire un poliziotto, un carabiniere, un vigile del fuoco, un finanziere senza pagarne conseguenze. Capisco le polemiche elettorali però la lotta ai camorristi e agli scafisti non può aspettare altre settimane quindi conto che nessuno si metta di traverso. E non tralascia l'importanza della riforma della giustizia che viaggia di pari passo con lo sviluppo dell'Italia e il sostegno alle imprese, ancora una volta quelle che a lui stanno più a cuore perché garantiscono crescita e lavoro. L'informa della giustizia è fondamentale, molte imprese non investono in Italia perché non sanno quanto durano i processi e non c'è la certezza del diritto e quindi dimezzare i tempi dei processi e aiutare le imprese. Nessun aumento dell'IVA e su questo è categorico, la risposta suona infatti quasi come un avvertimento. No, io lo escludo all'aumento dell'IVA, escludo categoricamente, tenga questa registrazione, finché sono al governo io, finché c'è il governo della Lega non aumenta l'IVA. Efficiente ed efficace, come nel suo stile, anche la posizione sulla chiusura dei centri finanche che vendono Cannabis Light e sulla posizione da rivedere in merito al problema della prostituzione per evitare sfruttamento e favorire la criminalità. Perché far l'amore fa bene, drogarsi fa male. Infine un passaggio sulla tenuta del governo con il quale saluta i giornalisti, passaggio che sa di ammonimento agli alleati. Per me è tanto, se tutti mantengono la parola data, tanto. Io sono uomo di parola. Altri vedo che stanno cambiando posizioni sull'immigrazione, sull'autonomia, sulla flat tax. Spero che sia solo la campagna elettorale. E nonostante la pioggia, in piazza Municipio a Campobasso, più di 200 persone al sit-in anti Salvini. La folla ha intonato anche Bella Ciao. Valentina Ciarlante. E' stato felicissimo perché il mio partito da subito ha aderito a questa manifestazione. Qui in piazza Municipio a Campobasso, nel giorno dell'arrivo di Matteo Salvini, il controcomizio anti-ministro dell'interno, anti le sue politiche, innanzitutto quelle migratorie, ma un'iniziativa che è nata soprattutto dopo le dichiarazioni del vice premier per ciò che concerne i riferimenti al fascismo. E quindi questo accostamento che soprattutto ultimamente viene fatto tra il leader della Lega e queste recrudescenze che ci sono nel paese appunto del fascismo. Lui ha sempre smentito, ha anche ironizzato sulla manifestazione dei balconi che c'è stata qui a Campobasso con gli striscioni che sono stati affissi in diversi palazzi della città. Ha detto che è democrazia, lo accetto, basta che non ci siano offese. Oriana Leone, la portavoce dell'Unione degli Studenti, avete organizzato in questi giorni i balconi, gli striscioni contro Salvini e poi questa manifestazione, bisogna dire che c'è stato un certo riscontro, centinaia di persone hanno raccolto il vostro invito, ma l'intento qual era? L'intento era quello tanto di far prendere parola a una cittadinanza che in realtà è contraria a una serie di politiche che sta portando tanto avanti questo governo quanto poi il governo che l'ha preceduto. Io vedo una larga continuità sui temi e sulla gestione delle politiche che c'è da parte di questo governo con il governo precedente. Questa era l'occasione proprio per far cogliere anche all'esterno quella che è poi la posizione della città di Campobasso in un momento in cui ci sono i riflettori puntati sulla città tanto per l'arrivo del ministro dell'interno quanto poi per il percorso verso le comunali e verso le europee. Italo di Sabato, come casa del popolo, avete lavorato insieme agli studenti per portare in piazza la città di Campobasso. È soddisfatto di questa risposta? Sì, siamo soddisfatti perché c'è stata una larga risposta popolare, spontanea e dà un po' la dimostrazione che c'è la necessità di riorganizzare un tessuto sociale fondato sulla partecipazione e sulle politiche di solidarietà. Ecco, noi dobbiamo rovesciare questo paese alla rovescia che sta governando il paese perché ci troviamo nel paradosso che chi pratica solidarietà viene criminalizzato anzi purtroppo la solidarietà è diventato reato in questo paese e chi alimenta odio, fa proclami razzisti, inneggia il fascismo quotidianamente diventa ministro della Repubblica. Quindi siamo un paese alla rovescia. Cambiamo argomento. Il Veneziale di Isernia ha una storia che merita di essere raccontata anche perché esiste da tanto tempo ed è un tutt'uno storico e culturale per la città e per i residenti di Isernia e dell'Interland. Una struttura ospedaliera che ha attraversato praticamente tutta la storia del circondario è sotto i riflettori e spesso però si trascura il lavoro svolto da medici e infermieri nei reparti sempre affollati. Del futuro dell'ospedale di Isernia si parlerà domani sera nel corso della puntata di conto alla rovescia a partire dalle 21 su Teleregione. Nel programma condotto da Pasquale Damiani interverranno molti ospiti che daranno un contributo anche in termini di proposte per risolvere le tante criticità vissute in questo momento dal Veneziale. Ed è attesa anche a momenti la sentenza d'appello sul caso di Giada, la giovane di Porto Cannone che ha subito abusi sessuali da parte dell'allora parroco del paese Don Marino. Il processo di primo grado è stato incentrato sui rapporti avvenuti prima del compimento del 14esimo anno di età di Giada. Il filone relativo agli atti dai 14 ai 17 anni è stato archiviato. I giudici dell'appello di Campobasso sono chiamati a decidere se confermare o meno il verdetto di primo grado, sei anni di reclusione a Don Marino, che vista l'irrevocabilità della sentenza Don Marino sarà poi costretto a scontare nell'ipotesi che la sentenza venisse confermata. Ma intanto sentiamo le impressioni dell'avvocato Carlo Taormina che difende l'imputato. Sono sempre fatti molto spiacevoli, al di là della responsabilità o non responsabilità, perché tutti noi abbiamo fiducia, ne dobbiamo avere fiducia negli sacerdoti e quindi qualunque cosa sia accaduta certamente sul piano sociale deve essere disapprovata. Detto questo, sul piano giuridico le cose stanno un po' diversamente. La ragazza ha presentato una denunzia con riferimento a tutta la vicenda che l'ha riguardata e per più di quattro quinti è intervenuta un'archiviazione perché il fatto non sussiste per essere stata riconosciuta il consenso della ragazza ai rapporti con questo sacerdote, un consenso molto forte fino ad aver parlato lei stessa di innamoramento nei confronti di questo sacerdote. residua una piccola parte, esattamente dall'aprile al giugno del 2009. Prima di quella data la ragazza era minore di 14 anni per cui scattano le presunzioni di responsabilità, per così dire. Lavoriamo su questo aspetto. Noi riteniamo che quella data di inizio del rapporto che è stata tardivamente indicata dalla persona offesa alla quale manifestiamo tutta la nostra solidarietà sia una data non corrispondente alla realtà e che sia frutto di un cattivo ricordo. Rammento che la ragazza ha presentato querela quando aveva raggiunto quasi i 18 anni del 2013 dunque a distanza di 4 anni da quando si erano verificati i fatti. Quindi tutte cose naturalmente che sul piano difensivo non potremo non utilizzare. Oltre 50 chili di droga sono stati sequestrati in un capannone agricolo a Guglionesi dove i carabinieri della stazione sono intervenuti perché allertati dal proprietario e hanno quindi proceduto al controllo dell'edificio. Nel corso di questo controllo, all'interno dello stabile che è situato alla periferia del comune hanno trovato praticamente un bazar, dire furtiva la merce del valore commerciale di oltre 30 mila euro e di varia tipologia. Primo, fra tutti, un automezzo Iveco Daily completo di gru per montaggio che è il risultato rubato a Termoli. Oltre al mezzo, diversi poi arnesi da potatura, attrezzi da ferramenta, materiale da imballaggio, motoseghe, tosaerba, reti da pesca, motori fuori bordo per imbarcazioni. Attraverso le banche dati delle forze di polizia e in sinergia col comando stazione di Termoli i militari hanno individuato in poco tempo i proprietari di tutta la refurtiva. Sempre all'interno del capannone i carabinieri hanno trovato un ingente quantitativo di stupefacenti, in particolare marijuana, parte in essiccazione, parte già raccolta in appositi contenitori, del peso complessivo di oltre 50 kg, immediatamente scattato il sequestro in attesa delle analisi di laboratorio e delle decisioni dell'autorità giudiziaria. E ancora un episodio di vandalismo ai danni di una scuola di Isernia. Nella notte alcuni sconosciuti hanno lanciato due grossi sassi contro una delle porte in vetro che dà accesso alla struttura. Il vetro è andato in frantumi, i danni ingenti sono stati arrecati anche al telaio in ferro che sostiene la porta, la scoperta, stamattina da parte del personale ausiliario dell'Istituto. L'attività didattica non ha subito variazioni mentre il preside Bruno Caccioppoli ha sporto denuncia al comando provinciale dei carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi e sequestrato i due sassi. E i carabinieri di Capracotta invece intervenuti in soccorso degli automobilisti rimasti in panne a fine febbraio scorso durante una bufera, un normale intervento dei carabinieri. Quello che però evidentemente per chi si trova a vivere una situazione di disagio e in pericolo va ben oltre il normale. Tra le persone soccorse a febbraio c'era un uomo originario dell'Alto Molise rimasto bloccato sotto la bufera insieme all'anziana madre che aveva problemi cardiaci e qualche giorno dopo ha deciso di inviare una lettera ai carabinieri per esprimere tutta la sua gratitudine per l'operato degli uomini in divisa. Un altro cittadino del comune Alto Molisano ha voluto scrivere una lettera di ringraziamento ai militari di Capracotta a riconoscimenti che non sono passati inosservati. Entrambi accolti dal comandante della compagnia di Agnone che ha ringraziato personalmente per le attestazioni di stima e affetto verso i suoi uomini. Andiamo a Termoli prima uscita ufficiale del sindaco Angelo Sbrocca ricandidato primo cittadino col centro-sinistra ha presentato la lista che lo sostiene ribadendo di voler continuare l'azione amministrativa portata avanti fino a qualche giorno fa. Giovanni Cannarsa Si chiama Vota per te la lista civica a sostegno del candidato primo cittadino di centro-sinistra Angelo Sbrocca è stato lo stesso candidato sindaco uscente a volerla presentare nel primo incontro ufficiale di questa campagna elettorale che lo vede impegnato per la riconquista del comune di Termoli. Sbrocca ha voluto prima di tutto parlare della lista elettorale che nella competizione è affiancata anche dal Partito Democratico da Italia in Comune e da Unione per Termoli. È una lista completa, variegata e che credo avrà molto successo perché tutte persone per bene persone che hanno anche amministrato e hanno amministrato bene con me per questi cinque anni e altre persone che magari non si sono mai candidate prima ma che hanno grande voglia di fare politica e amministrazione prima che politica. Angelo Sbrocca non nasconde le aspettative tornare in comune per continuare l'attività amministrativa svolta negli ultimi cinque anni. L'ambizione è quella di vincere le elezioni per riconfermare me e l'amministrazione che mi ha accompagnato come amministrazione per il prossimo quinquennio. Stiamo lavorando per questo. La città sta rispondendo molto bene sia sul mio nome che sui singoli candidati e perciò siamo molto fiduciosi che queste elezioni verranno vinte ancora una volta dalla coalizione di centrosinistra. Il programma elettorale che si basa su nove punti cardine sarà sviscerato con un apposito incontro. Tuttavia il candidato sindaco del centrosinistra indica quelle che saranno le direttive sulle quali verterà la campagna elettorale. Sicuramente più sociale e questo sarà nei nostri programmi più cultura più spazi culturali anche per le associazioni e per le tante neoassociazioni che si vogliono in questo momento costituire e nei prossimi anni. Quindi noi cercheremo di dare tutto questo oltre che una nuova veste urbanistica alla città e sempre nuove opere pubbliche perché noi crediamo che solo con le infrastrutturazioni della città la città possa evolversi ed evolversi in positivo e creare anche posti di lavoro. Con le parole e le analisi non si raggiunge nessun obiettivo. Ed è stata dedicata alla memoria dell'agente Giuseppe Iacovone la tappa isernina del Memorial Day promossa dal SAP per l'anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Nicola De Santis. Il SAP ha organizzato il Memorial Day in occasione dell'anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio per celebrare le vittime del terrorismo o della mafia e di ogni forma di criminalità. La tappa di Sernia è stata dedicata a Giuseppe Iacovone morto a soli 28 anni mentre inseguiva un SUV sulla statale. È stata a Sonia Iacovone segretario provinciale del SAP a ricordare la figura di Giuseppe soffermandosi sull'amore che il giovane poliziotto aveva per il suo lavoro che considerava una vera e propria missione. Giuseppe è un ragazzo che aveva degli ideali forti lui svolgeva il suo servizio con passione con dedizione ed è proprio forse questo che l'ha portato poi all'estremo sacrificio perché quel giorno Giuseppe poteva far finta di nulla girarsi dall'altro lato non vedere invece no lui voleva il suo pensiero in quel giorno era che questa persona che correva l'impazzata potesse ammazzare qualcuno infatti le sue ultime parole furono questo ammazza qualcuno dobbiamo fermarlo e purtroppo ha ammazzato lui. Il segretario nazionale del SAP Stefano Paoloni ha ricordato il sacrificio degli uomini e delle donne della polizia di stato che quotidianamente senza pensare a retribuzioni o pericoli rischiano la vita per garantire la sicurezza ai cittadini. Memoria e ricordo ha un significato molto profondo perché delle volte si cerca di liberarsi con una piccola e semplice commemorazione delle vittime e del dovere ma non è così perché la semplice commemorazione sarebbe quasi un'ipocrisia invece noi dobbiamo cercare di valorizzare quello che è stato il sacrificio della vittima del dovere dobbiamo cercare di capitalizzare quello che è stato il sacrificio della vittima del dovere che cosa e che come possiamo fare per valorizzarlo dobbiamo concentrarsi dobbiamo porre attenzione a quelli che sono i valori della società quindi noi dobbiamo combattere e difendere questi valori al convegno ha partecipato anche Antonio Braccia già assistente della polizia e superstite della strage di Bologna del 2 agosto 1980 io prendevo il treno che mi recavo a Roma c'era il matrimonio di mia cugina la domenica mattina e quel sabato per me era una giornata da favola veramente da favola perché era da tanto pure che non andavo a casa perché era da un mese che avevo finito la scuola di polizia di Vicenza da un mese che ero a Bologna ecco non andavo a casa da 4-5 mesi allora mi recavo al matrimonio di mia cugina a Roma che c'eravamo tutti tutti parenti ecco era uno dei giorni più belli della mia vita doveva essere però poi mi sono trovato sotto al treno che piangevo e mi disperavo mi disperavo si sente un po' miracolato si si mi sento un po' miracolato perché come stavo conciato io perché avevo un braccio staccato l'occhio fuori dall'orbita orecchie staccate avevo l'emorragia interna sono stato in coma diverso tempo ho subito 25-26 interventi chirurgici e mi sento veramente miracolato bene questo era l'ultimo servizio vediamo insieme le previsioni del tempo previsioni del tempo di venerdì 17 maggio un temporaneo rinforzo della pressione determina tempo più stabile e soleggiato eccezione fatta per qualche locale fenomeno venti in nuovo rinforzo dai quadranti meridionali mare mosso le temperature campo basso minima 5 gradi massima 20 gradi isernia 6-16 termoli 7-20 venafro 8-21 una piccola pausa torniamo fra pochissimo con lo sport parliamo subito del giro d'italia oltre 100 km sul nostro territorio regionale in una frazione la sesta del giro in cui il Molise è stato al centro di diversi colpi di scena al km 34 all'altezza della galleria di macchia di Isernia c'è stata una caduta di gruppo che ha coinvolto anche la maglia rosa Roglic dopo 50 km dopo Isernia ad andare in via sono in 12 tra cui il costaricense della Movistar Amador che con oltre 4 minuti di margine al traguardo volante di Boiano un altro Movistar Royals ad arrivare davanti a tutti poi a campo basso ci sono ancora davanti gli attaccanti con il gruppo A poco più di 4 minuti con una situazione che si è cristallizzata fino allo svincolo di Gamba Tesa da dove la corsa ha lasciato il Molise per dirigersi verso San Giovanni Rotondo la sesta tappa della Corsa Rosa aveva preso il via da Cassino e con i suoi 238 km è stata la tappa più lunga di tutto il giro in regione il giro aveva attraversato anche Venafro da dove era entrato e marginalmente anche la città di Isernia dove c'è stata la fermata della carovana pubblicitaria e con Silvio Berlusconi lo abbiamo visto nell'intervista sulla politica in apertura del Tg Pierluigi Boraggi ne ha parlato anche di calcio e del Milan l'ex presidente è convinto che i rossoneri possano conquistare un posto in Champions ascoltiamo spero di sì ma voglio starne fuori non ho creato polemiche posso dire soltanto che il modulo con cui il Milan gioca adesso è differente da quel modulo di gioco con due punte e una mezzala dietro alla Kakà e noi abbiamo i giocatori per farlo che ha concesso al Milan di vincere 29 importanti trofei durante gli anni della mia presidenza e ha permesso a me di diventare il presidente di club calcistico che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale grazie della sua intervista e tanti auguri alla vostra regione ai vostri concittadini e complimenti anche a Donato Toma che sta cominciando molto bene a governare la regione cambiando molte cose che ha trovato che nella regione non vanno grazie era davvero questo l'ultimo contributo per questa edizione del telegiornale di Teleregione io vi ringrazio come sempre per aver scelto la nostra informazione vi do appuntamento alle prossime edizioni a partire dalle 19.30